Siamo sul finire di giugno 2023 e le banche centrali di un po' tutto l'Occidente stanno aumentando ancora i tassi per cercare di combattere l'inflazione che sta calando ma non come ci si aspettava, in particolare in Regno Unito dove l'inflazione continua a essere ancora elevata e la banca centrale che non sa più cosa fare anche perché molte alternative non ci sono per combattere l'inflazione in questo momento nel sistema Regno Unito ma lo vediamo a breve, aumenta ancora i tassi. Questo aumento dei tassi che è stato dello 0,5% solo a giugno e li ha portati al 5% mentre la Fed si aggira con dei tassi al 5,25% ma sembra che abbia raggiunto i suoi massimi. Ma perché il Regno Unito e i tassi di interesse così alti e quali sono gli effetti di questo aumento dei tassi nell'economia del Regno Unito ma in particolare quello che voglio vedere oggi con voi è che effetti avrà sul mercato immobiliare e che conseguenze ci saranno anche sull'economia del Regno Unito per effetto del mercato immobiliare. Oggi voglio fare un video con meno montaggio degli ultimi, un po' più immediato per portarvi qualcosa che sta avvenendo qui in Regno Unito dove vivo e per portarvi magari anche una visione di quello che succede fuori dall'Italia e in contesti economici diversi da quelli in cui vivete perché in Italia la situazione economica è diversa rispetto al Regno Unito per molti fattori e proprio perché è una situazione diversa è interessante vedere come dinamiche differenti stiano portando a delle conseguenze che magari in Italia non si verificheranno. Quindi bando alle ciance e partiamo. Vorrei parlare proprio del mercato immobiliare inglese e di come con l'inflazione attuale tutto stia andando a rotoli e c'è non solo il rischio di uno scoppio di una bolla immobiliare che tutto sommato me lo auguro anche ma l'impatto negativo che l'aumento dei tassi di interesse ha sui mutui e sull'economia tutta inglese. Per capire però come siamo arrivati a questo punto andiamo a vederci da dove siamo arrivati, da dove siamo partiti. Nel Regno Unito il valore delle case ha iniziato a aumentare molto rapidamente dagli anni Ottanta in avanti. Il primo inizio di aumento dei costi delle case e il valore degli immobili è stato sotto il periodo della Thatcher che ha fatto delle politiche per incentivare le persone a comprare una casa di proprietà cosa che non era così diffusa prima che la Thatcher facesse queste politiche molti vivevano nelle cosiddette council houses cosa sono quelle che noi in Italia definiremmo le case popolari sono case costruite dallo Stato date con affitti agevolati, affitti comunque non eccessivi a privati e quindi a persone che vogliono stare in affitto quindi a partire dalla fine degli anni Settanta a inizio anni Ottanta ecco che il mercato immobiliare britannico inizia a passare sempre di più a essere un mercato immobiliare con una forte presenza privata e con una domanda crescente di nuovi immobili e di persone che vogliono comprare immobili e molte delle council houses, appunto delle case popolari sono state poi vendute dallo Stato a privati e quelle case lì sono diventate case di proprietà e non più case dello Stato date in affitto alle persone questo dura per quasi tutti gli anni Ottanta in cui il prezzo delle case continuano a salire e a quel tempo le case non costavano poi molto il costo medio di una casa era intorno ai 20.000 pound quindi per quanto fossero più bassi i redditi in quel periodo storico ecco che erano molto più accessibili le case rispetto ad oggi quindi si potevano fare mutui più brevi innanzitutto o si poteva mettere da parte abbastanza soldi per comprarsi casa mutui che scaderono più o meno intorno agli anni 90 anni 90 in cui le persone già avevano casa chi voleva prendersela ce l'aveva e le case, visto anche che sono aumentati parecchi i prezzi dall'inizio degli anni Ottanta alla fine degli anni Ottanta delle case iniziano ad essere meno di interesse delle persone tant'è che la domanda di case cala rispetto al numero di case in vendita quindi come investimento, chi l'aveva fatto come investimento si trovava a dover vendere magari la casa a un prezzo più basso di quanto l'aveva comprata e negli anni 90 c'è una leggera flessione in negativo del prezzo delle case che scende un po' e rimane un po' stagnante per quasi tutti gli anni 90 sul finire degli anni 90, inizio anni 2000 ritorna il boom delle case per diversi motivi in realtà, soprattutto all'inizio degli anni 2000 le case anche per effetto dei tassi interesse non eccessivamente elevati e per il fatto che grazie alla bolla delle .com negli Stati Uniti diciamo che non c'era un grande interesse a investire nel mercato azionario perché c'era abbastanza timore e con i tassi interesse non elevatissimi che quindi non davano molto come rendita, come rendimento e quindi non era un investimento che davano tanti soldi ecco che come succede in molte altre culture, in molti altri Stati compresa l'Italia molta gente decide di investire sul mattone perché il mattone è solido non è come il mercato azionario che può essere volatile, sale e scende il mattone male che vada c'hai la casa non ti costa tanto fare un mutuo perché appunto i tassi interesse sono bassi quindi il costo del debito è basso e c'è la possibilità che questi aumentino di valore quindi che diventino un investimento interessante in aggiunta a questo si aggiungono anche delle nuove dinamiche di una possibilità di investimento che incentivano molto le persone che vogliono acquistare una casa per lucrarci invece che per viverci come il fatto di poter comprare una casa un immobile senza pagare la quota capitale ma pagando solo gli interessi dell'immobile sull'immobile, sul mutuo che si è fatto quindi come funziona? voi comprate una casa, la mettete a pegno quindi nel caso non possiate pagare se la riprende la banca nel periodo del mutuo pagate solo gli interessi non c'è la quota capitale e alla fine del mutuo si ripaga tutto il valore della casa ma questa cosa è possibile solo se già avete degli immobili perché potete garantire insomma di avere degli immobili da dare oltre alla casa che avete e che siete riusciti sostanzialmente a comprarvi delle proprietà quindi questo è possibile solo per chi è già proprietà non si può fare con la prima casa e soprattutto uno che ha la prima casa difficilmente dirà ok pago solo gli interessi e poi fra 20 anni compro la casa sull'unghia con tutto perché è un costo allucinante per cosa viene utilizzata questa cosa qui? perché c'è tutt'ora semplicemente molte aziende che comprano diversi immobili li comprano tutti pagando solo gli interessi sanno che non terranno la casa alla fine del mutuo la rivenderanno prima della fine del mutuo di conseguenza a loro che fra 5-10 anni la casa debba essere ripagata interamente il suo valore non gli interessa minimamente perché loro la rivenderanno un valore più alto prima ancora di dover pagare quei soldi quindi senza nessun esborso di soldi pagando solo gli interessi si possono comprare un immobile quindi chi ha già proprietà chi ha già degli immobili e ha già quindi delle case può permettersi di fare questa cosa qua chi non ha case invece no può farsi solo il mutuo classico in cui bisogna pagare sia la quota capitale che quelli interessi questo meccanismo incentiva ad acquistare sempre più case ed essere messe in affitto ed essere messe poi a rendita per rivenderle quando il mercato salirà e negli anni 2000 questa cosa avviene in maniera abbastanza frequente fino al 2007 anno in cui c'è la crisi dei mutui subprime negli Stati Uniti che impatta tutto il mondo in quel momento lì crollano i mercati le banche vanno in credit crunch quindi non fanno più credito perché sono in difficoltà loro stesse a ricevere credito e di conseguenza si chiudono i rubinetti e le banche chiudendosi i rubinetti e le banche basta mutui crolla la domanda di case anche per investimenti di quel tipo e nonostante appunto siano cresciuti nel tempo i valori delle case non vicini ai valori attuali comunque scendono in maniera drastica ed è uno dei cali maggiori che si è avuti praticamente per il valore delle case e quella volta prima era nel 91 e difatti tuttora in Regno Unito quando si parla di crash del sistema immobiliare comunque del prezzo delle case si fa riferimento al 1991 e al 2008 anni in cui i prezzi delle case sono crollati perché la domanda di case è crollata e molta più gente in realtà voleva venderle perché la domanda cala perché meno gente vuole comprare casa perché c'è anche un'aspettativa diciamo di non crescita economica e quindi non ti imbarchi a avere un debito in più da pagare dall'altra parte la gente che è in crisi economica vuole vendere casa e di conseguenza vuole sbolognarle quindi c'è più offerta più gente che vuole vendere rispetto a chi vuole acquistare i prezzi delle case crollano da lì da quando crolla appunto il prezzo del valore delle case che va fra il 2008 e il 2013 ecco che poi riparte il mercato immobiliare anche grazie al fatto che i tassi di interesse andranno a zero sia in Regno Unito che è un po' tutto il mondo occidentale e inizierà il quantitative easing che butterà un casino di liquidità nei mercati nelle tasche delle persone soprattutto quello delle banche che con i tassi zero permette di investire in immobili sostanzialmente a costi irrisori e se considerate appunto la questione del comprare un immobile senza pagare la quota capitale ma pagando solo gli interessi ecco che se i tassi sono a zero e devo pagare solo lo spread alla banca mi costa veramente nulla io sto comprando una casa senza spendere soldi sto facendo un investimento a costo zero di un immobile che potrò rivendere a qualcun altro per un valore che io mi porto a casa ora giusto per chiarire non è che lo prendo a costo zero la banca metto il mutuo io pago solo gli interessi l'ho comprata a 500 la rivendo a 700 mi ritornano 700 in tasca no ma ti tornano 200 perché la banca ripaga il suo mutuo per 500 tu hai incassato 700 ecco che quei 200 ti arrivano in tasca e pagando solo gli interessi e nel frattempo quella casa tu l'hai messa in affitto e quindi comunque hai avuto delle entrate da quella casa una volta che la vai a rivendere fai altri soldi quindi c'era una forte spinta nel sistema britannico con questo tipo di mutui a comprare case e a spingere alla domanda di case che ha portato i prezzi delle case a crescere in maniera spropositata se negli anni 80 una casa media costava intorno ai 20.000 pound adesso nel Regno Unito il costo medio di una casa è 300.000 pound che è più di 10 volte in un arco di tempo in cui l'inflazione non è cresciuta nello stesso modo né tantomeno il valore degli stipendi difatti se per 20.000 pound ti compravi una casa ed era più o meno non era proprio magari lo stipendio medio britannico di quel periodo ma poco c'era ora ti servono quasi 10 stipendi medi per comprarti una casa forse un po' meno perché 300.000 non è 30.000 lo stipendio medio britannico però siamo intorno in realtà la media è a seconda delle zone d'Inghilterra è fra le 8 volte e le 20 erotti volte che è per alcuni quartieri di Londra ecco che appunto salgono in maniera spropositata perché c'è un fortissimo incentivo ad acquistare immobili a Londra la situazione è ancora più peculiare e particolare perché c'è molto interesse soprattutto da chi investe all'estero a investire a Londra sugli immobili che crescono in maniera sempre più rapida a Londra il prezzo medio delle case è intorno al mezzo milione di pound quindi la casa media a Londra è mezzo milione di pound e meno di mezzo milione sono mediamente delle catapecchie bruttissime di merda o molto distanti da Londra sopra il milione ne trovate quante ne volete io vivo in una zona dove le case in vendita non sono inferiori al 2 milioni e mezzo giusto per darvi un'idea quindi il costo della casa è molto elevato e gli stipendi per quanto siano più alti a Londra non ti permettono di comprarti la casa in 10 anni se io penso allo stipendio medio mio e dei miei colleghi moltiplicato per le case che ci sono ci vogliono ben più di 10 anni forse 20-25 anni solo di stipendio per ricomprare la casa senza considerare che ovviamente non si usa tutto lo stipendio per ricomprare la casa ma bisogna anche vivere ci sono anche altre cose ci si paga pure le tasse sopra di conseguenza in realtà è molto più lunga ma è un po' la situazione che c'è in tutto il mondo occidentale cioè le case sono cresciute in maniera esponenziale le case fra l'altro gli immobili non rientrano nel calcolo dell'inflazione quindi se le case crescono tantissimo di valore non lo vedete nel prezzo di inflazione perché non sono dentro l'inflazione l'inflazione i prezzi al consumo e le case non sono un bene di consumo fino a prova contraria quindi le case sono cresciute in maniera elevatissima molto più degli stipendi ed ecco che le persone devono sempre fare più mutui c'è stato un aumento ancora di persone che hanno voluto comprare la casa la prima casa in particolare dopo il covid quindi stiamo arrivando ai giorni nostri un aumento anche facciamo un piccolo appassimo indietro del prezzo delle case è stato dovuto al fatto che prima negli anni 70-80 si costruivano ancora tantissime council house che sono appunto come dicevamo le case popolari per cui si davano in affitto alle persone dagli anni 80 in poi il numero di council house costruite è stato sempre più inferiore e invece si è costruito molto di più nel privato quindi non era più lo stato che costruiva case per darli in affitto poi alle persone e potenzialmente a rivenderle a loro da appunto addi anni ma erano privati che iniziavano a costruire e entravano sempre più massicciamente nel mercato immobiliare quindi a differenza dell'italia dove il mercato immobiliare privato è molto più presente nel regno unito c'era una forte presenza di mercato immobiliare pubblico gestione pubblica delle case dagli anni 80 questo cambia e questo spingerà i prezzi delle case a aumentare ancora di più anche perché attualmente si stanno costruendo immobili e case perché c'è una forte domanda di case in particolare a Londra c'è proprio una crisi di abitativa tutti vogliono una casa e è difficile trovarne anche in affitto e di fatti anche lì è un'altra questione gli affitti costano tantissimo perché le persone che vogliono una casa sono maggiori al numero di case in circolazione non si è però costruito più tante council houses tante case popolari che permettevano di mantenere gli affitti a prezzi abbordabili e di mitigare la domanda di abitazioni dando sostanzialmente delle abitazioni da parte dello stato c'è stata una costruzione invece massiccia privata che si è orientata sempre di più a un target lusso a Londra stanno costruendo tantissimi nuovi grattacieli le case dentro quei grattacieli costano un fottio quindi se cerchi casa le case che trovi costano parecchio e questo è un problema perché ok che stai costruendo case ma non stai soddisfacendo la domanda di persone che hanno bisogno di case che non hanno quei redditi lì quindi spingi a far salire di prezzo anche tutte le case che valgono meno perché c'è una domanda elevata di quelle case lì quindi le case continuano a salire i tassi interesse fino all'altro ieri due anni fa erano bassissimi la gente si indebita e qui c'è una cosa molto peculiare del mercato britannico che non c'è né in Italia né negli Stati Uniti nel mondo britannico i mutui a tasso fisso non sono per tutta la durata dell'immobile la gente qui fa dei tassi che potremmo chiamare semifissi o semivariabili nel senso che si fanno si negoziano mutui con tassi fissi per periodi di tempo che vanno fra i 2 e i 5 anni sotto pandemia il 95% delle persone che ha ristipulato o stipulato il suo mutuo ha sostanzialmente stipulato un mutuo per 2 anni non per 5 che è il massimo perché sotto pandemia i tassi erano bassissimi conveniva molto di più ristipulare un mutuo per 2 anni rispetto a 5 che costava di più e quindi molti nel 2021 hanno ristipulato o stipulato un mutuo da 0 con i tassi fissi per 2 anni quindi a scadere nel 2023 quest'anno qui in cui i tassi sono ai massimi storici per gli ultimi 15 anni quindi le persone la maggior parte delle persone si sta trovando in questo momento storico a dover rinnegoziare il mutuo con dei tassi di interesse molto più elevati se prima avevano un mutuo all'1% adesso negoziano un mutuo che è intorno al 6-7% è 7 volte tanto di interessi è un aumento delle rate spropositato quindi molte persone che avevano fatto i loro conti per il loro mutuo nel 2021 con i tassi di quel tempo non è detto che ora riescano a pagare il mutuo anche perché c'è l'inflazione che cresce sempre di più maggiore inflazione cosa vuol dire? che i soldi che hai in tasca valgono meno e quindi devi spendere molto di più per comprare le cose se devi spendere molto di più vuol dire che hai meno soldi a disposizione per pagare il mutuo e se il mutuo aumenta i suoi interessi quindi aumenta la tua rata nel mutuo ecco che ti trovi in difficoltà e rischi di non riuscire più a pagare il mutuo e ora siamo in questa situazione economica una situazione in cui l'inflazione continua a crescere e la banca centrale non vede altri modi che alzare i testi di interesse per combattere l'inflazione perché qualsiasi cosa possa fare il governo per aiutare contrastare l'aumento di prezzi fa aumentare i prezzi perché immette nel mercato nuova moneta perché se il governo abbassa le tasse hai più soldi in tasca quindi spendi di più quindi i prezzi continuano a aumentare se lo Stato ti dà agevolazioni sul mutuo a parte che se te le dà agevolando magari il tasso di interesse vuol dire che mette soldi comunque nell'economia e aumenta il suo debito pubblico la sua spesa pubblica e l'ingregno unito non se lo può permettere ora perché ha aumentato in maniera massiccia il suo debito pubblico sotto il covid e quindi non può indebitarsi ancora di più per compensare i tassi di interesse delle persone che hanno avuto una visione poco lungimirante dell'economia aggiungo una cosa in post produzione perché riguardando mentre stavo editando il video mi sono reso conto che sto dando per scontato il motivo per cui lo Stato dovrebbe mettere dentro soldi nel caso bloccasse i tassi di interesse i tassi di interesse variano o comunque vengono dati ad un certo livello perché i soldi che vengono prestati a voi per fare il mutuo la banca li chiede a prestito da qualcun altro di conseguenza deve pagare quei tassi a quell'altro per averli presi e dati a voi o comunque funziona che ci si continuano a scambiare e a prestare soldi nel sistema appunto per mantenere tutti i prestiti in essere e per fare in modo che le banche mantengono i loro livelli di liquidità minimi quindi voi pagate degli interessi per ripagare in parte anche da chi la banca ha preso i soldi a prestito se lo Stato taglia i tassi e dice no i tassi sono al 5 noi per i mutui li metteremo al 2 ecco che il 3% chi lo mette qualcuno dovrà ripagare quel prestito a monte e se lo Stato impone quel limite se lo dovrà pagare lui quindi la differenza se mette un taglio al 2% fra il 2 e il 5 ce lo deve mettere lo Stato e per quello per metterci lo Stato sostanzialmente genera maggiore debito pubblico perché ha delle spese maggiori delle entrate che gli entrano e di conseguenza comunque continua a buttare liquidità nel sistema e non risolve il problema attuale per quale motivo se tu puoi permettere alla gente di avere un tasso del 2% continuerà a indebitarsi aumentando costantemente la domanda di moneta e a quel punto siamo appunto a capo che cazzo serviva mettere i tassi di interesse più alti per evitare che la gente si indebitasse se poi lo Stato ci mette la pezza e agevola le persone a indebitarsi continuando a foraggiare sostanzialmente l'inflazione quindi per questo diciamo che era tutto il ragionamento dietro che mi sono reso conto che è rimasto nella mia testa e non ho esplicitato nel video ora lo sapete vi lascio quello che è il continuum ciao e molto spesso si dice che in Italia non si ha educazione finanziaria sappiate che fuori dall'Italia non è diverso il Regno Unito è uguale e questo ha inciso nella situazione in primis perché molte persone non si sono rese conto che fare un tasso di interesse fisso per solo due anni non aveva senso in quel momento storico perché più bassi di così i tassi non potevano andare potevano solo che salire quindi tanto valeva farlo il più lungo possibile sperando che le cose reggessero invece che farlo breve con il rischio di rinegoziare in un momento in cui i tassi erano molto più elevati io so per certo perché ho amici che hanno fatto case in questo periodo che i broker andavano dicendo ma sì li rinegoziate fra due anni e li rinegoziate a dei tassi più bassi e a me quando mi hanno detto questa cosa qui gli ho detto ma siete pazzi più bassi di così non si va è a zero il tasso in questo momento più basso di zero non vanno quindi può andare solo che a salire fatelo più lungo possibile ma ormai l'avevano fatto questo è perché non mi chiamate prima di fare queste cazzate che magari un consiglio ve lo davo comunque non importa chiusa la parentesi detto ciò siamo arrivati quindi appunto una mancanza di conoscenze ed educazione finanziaria ha portato moltissime persone si parla del 95% di persone che hanno fatto mutui con una lunghezza del tasso di interesse fisso di due anni invece che utilizzare il massimo a 5 quest'anno scadono i due anni quest'anno tutte quelle persone si troveranno i tassi interessi elevatissimi un'altra cosa che ha spinto tantissimo la bolla immobiliare è proprio la mancanza di educazione finanziaria nel senso che come in Italia tutti si sono buttati sul mattone perché i mercati finanziari l'inglese medio l'utente inglese medio che deve investire i propri soldi non li conosce non sa cosa fare non sa cosa farsene i tassi di interesse sui titoli di stato nel periodo pre-covid e sotto il covid erano bassissimi perché i tassi erano prima del covid allo 0,25% e sotto covid allo 0% quindi come in Italia anche qua l'inglese medio investe in titoli di stato i titoli di stato non remuneravano niente ed era pieno di guru qua in Regno Unito che diceva diventa straricco buttandoti nel mercato immobiliare perché continua a crescere e crescerà per sempre e hanno aumentato tantissimo la domanda sugli immobili ed effettivamente il mercato immobiliare è cresciuto ma ora che la situazione economica è cambiata completamente e ci siamo trovati con dei mutui costosissimi che è difficile ripagare ecco che arriverà sempre più gente che cercherà di vendere casa perché non può ripagare il mutuo o non potrà pagare il mutuo e la casa se la riprenderà la banca e dovrà metterla in vendita quindi l'aumento di casi in vendita sarà maggiore rispetto alle persone che vorranno acquistare e ci sarà meno gente che vuole acquistare perché fare un mutuo con i tassi attuali è folle si parla appunto del 6-7% in alcuni casi anche 8-9% cose veramente allucinanti se pensiamo che in Italia i mutui stanno adesso mi pare intorno al 5% mi dicevano alcuni miei ascoltatori che gli hanno fatto delle proposte al 5% ed è già una percentuale che viene considerata folle considerando che appunto negli anni precedenti erano molto molto più bassi i tassi di interesse di conseguenza pensate a degli interessi ancora più alti e con un'inflazione ancora più alta rispetto a quella italiana quindi diciamo che il crunch e la difficoltà di gestione dei propri soldi aumenta ancora di più impattando sicuramente da una parte il mercato immobiliare e dall'altra anche quello dei consumi ed è un po' anche la speranza in realtà della banca centrale inglese che sta continuando ad aumentare i tassi sperando fortemente che si calino i consumi e quindi si vada in recessione e quindi i prezzi calino perché in questo momento per quale motivo l'inflazione continua a salire forse l'ho già detto in altri contesti in altri contenuti comunque perché qua in Regno Unito gli stipendi continuano a aumentare per attaccarsi all'inflazione i prezzi continuano a aumentare ed ecco che i dipendenti o trovano delle offerte più alte fuori dalla propria azienda o chiedono di aumentare il proprio stipendio perché se no possono andarsi in un'altra parte la disoccupazione è veramente bassa in questo momento storico anche per effetto della Brexit e questo sta creando una pressione su gli stipendi non da poco quindi gli stipendi continuano a salire che i prezzi salgano è un problema fino a un certo punto perché tanto tu continui a guadagnare di più ma questo spinge ad aumentare di più gli stipendi che aumenteranno di più il costo dei beni e servizi prodotti che aumenteranno di più i costi del consumo senza considerare che con la Brexit costa molto di più importare perché ci sono dazzi che non ce l'hanno prima perché ci vuole molto più tempo importare perché le merci rimangono ferme alla dogana mentre prima passavano dritte e quello è un costo in più perché paghi più gente che deve star ferma lì ad aspettare le merci quindi queste dinamiche continuano a far aumentare il costo della vita e se non si rompe questo costo della vita portando della recessione quindi un aumento della disoccupazione un rallentamento se non un calo degli stipendi e quindi anche un calo dei prezzi è difficile uscirne e quindi la situazione britannica è molto impiccata in questa situazione perché già la situazione globale non è delle migliori in più la brexit non ha aiutato anzi dà un'ammazzata finale e ci si trova in una situazione in cui l'inflazione è altissima e i tassi interessi sono altissimi e non possono crescere più di così perché la banca centrale inglese ha fatto degli stress test ha visto quanto può spingere i tassi interessi in alto prima che collassi il sistema finanziario e hanno visto che se portassero i tassi al 6% ecco che il sistema finanziario collasserebbe quindi si sono dati come target massimo che si pensa si arriverà da qua alla fine dell'anno del 5.5% degli tassi di interesse della banca centrale detto ciò la situazione come dicevo è molto impiccata e tutto porterebbe ad un crollo del mercato immobiliare quindi a un calo dei prezzi del mercato immobiliare ma anche a una crisi dei mutui e alcuni stanno parlando della crisi dei mutui di subprime americana ecco io non farei proprio un parallelismo con la crisi dei mutui supremi americani perché nella situazione americana nel 2011 cosa era successo che davano mutui a destra e a manca anche a chi non se lo meritava i cosiddetti mutui ninja che avevano dati a chi non aveva lavoro a chi non aveva income a chi non aveva proprietà quindi non aveva neanche garanzie in Regno Unito no hanno dato mutui in particolare negli ultimi anni abbastanza posso dirvi con certezza con determinate garanzie quindi non danno mutui a chiunque il fatto è che hanno fatto dei mutui a dei costi o perlomeno la persona che hanno acceso il mutuo l'hanno fatto con dei costi due anni fa che erano molto diversi dei costi attuali e in questo momento la situazione sta cambiando e potrebbero cambiare le loro decisioni quindi appunto come dicevamo il sistema è molto impiccato non si può fare molto per uscire da questa inflazione l'unica speranza è quella che si riesca a uscire dal meccanismo del ciclo vizioso aumento degli stipendi aumento dei prezzi aumento dei prezzi aumento degli stipendi e così via perché se non si esce da quel ciclo vizioso c'è il rischio che non si riesca più a gestire l'inflazione che si autoalimenta a quel punto e si entra nella tipica patologia che si ha nei sistemi a inflazione elevata in cui l'inflazione continua a generare nuova inflazione per riuscire a star dietro sostanzialmente ai prezzi la speranza della banca centrale è che ci sia un'inversione prima che si arrivi al punto di non ritorno cioè al punto che non si possono più alzare i tassi più di così dal punto di vista invece legislativo cioè quello che può fare il governo come politiche non è che abbia molto da fare perché qualsiasi cosa possa fare il governo sostanzialmente per aiutare le persone immetterebbe nuova liquidità nei mercati e questa immissione di nuova liquidità spingerebbe ancora di più l'inflazione a crescere quindi la speranza è che si entri in una recessione che le dinamiche attuali portino a recessione portino a un aumento della disoccupazione a un calo degli stipendi o un rallentamento o un blocco dell'aumento degli stipendi e conseguentemente anche un rallentamento dei prezzi e magari anche un calo dei prezzi perché come abbiamo visto anche in altri contenuti che ho fatto e in particolare nella penultima puntata del podcast che l'inflazione generata dalla supply chain sta svanendo i problemi che sono legati alla supply chain stanno andando stanno scemando piano piano quella che c'è adesso per esempio in Regno Unito in particolare è proprio un'inflazione che si autogenera per effetto della rincorsa ai prezzi e questo diciamo che è spinto tantissimo dal fatto che c'è una disoccupazione molto molto bassa è veramente i minimi storici o meglio qualche mese fa i minimi storici adesso è un po' di più vi lascio qui il grafico della disoccupazione in Regno Unito come potete vedere non c'è stata disoccupazione così bassa in Regno Unito cosa vuol dire? beh vuol dire che è facile trovare lavoro e se tu chiedi un aumento è facile che te lo diano perché hanno paura che tu te ne vada all'altra parte perché evidentemente lavoro ce n'è e persone che possono coprire quei ruoli ce ne sono poche e fra altre robe posso dirvelo in maniera diretta perché nel mio settore continuiamo a cercare gente per coprire posizioni perché lavoro ce n'è ma è difficile trovarla e quindi per averla per strapparla ai tuoi concorrenti per evitare che noi ce ne andiamo dai concorrenti ecco che veniamo pagati di più che è un bene da un certo punto di vista è un male perché l'inflazione sta diventando veramente ingestibile in Regno Unito il costo della vita è veramente tanto tanto elevato la speranza mia da persona che vive qua in Regno Unito è di entrare in una recessione con dei cali dei prezzi cali dei consumi e soprattutto un effetto sugli immobili perché gli immobili in questo momento costano veramente tantissimo se andiamo a vedere la progressione ve la lascio qua del rapporto fra stipendio e valore dell'immobile qui c'è la progressione di ogni borough quindi ogni provincia mettiamola così che c'è in Regno Unito questo è il rapporto che c'è nelle province di Londra il rapporto è fuori scala se voi guardate Kensington in Chelsea sparisce dal grafico da quanto fuori scala è perché le case costano molto 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 di più rispetto a quello che è lo stipendio medio di una persona che può anche aumentare ma se gli immobili crescono di valore così tanto diventa ingestibile e difatti ora sta diventando ingestibile con le situazioni economiche attuali che stanno chiamando sempre di più una crisi del mercato immobiliare e una crisi dei mutui in Regno Unito un'ultima cosa prima di lasciarvi magari avrete la domanda e ma in Italia può succedere una cosa del genere ecco la situazione sia in Italia che negli Stati Uniti è molto diversa rispetto al Regno Unito perché in Italia tendiamo a fare mutui a tasso fisso molto più lunghi di due anni e tendiamo molto di più a avere tasso fisso che tasso variabile in Europa c'è il dato che dice che i mutui in media hanno un tasso fisso di dieci anni quindi fra i tassi variabili e chi fa un tasso fisso a trent'anni la media è di dieci anni quindi la banca centrale europea sa che se anche alzassi i tassi adesso la maggior parte dei mutui sarebbero comunque coperti nel loro tasso da qua a dieci anni in America addirittura si passa a trent'anni quindi i mutui si fanno praticamente solo a tasso fisso evidentemente in Inghilterra invece come dicevamo prima possono fare mutui dai due ai cinque anni e la media attuale è due anni quindi praticamente tutti hanno fatto mutui che hanno un tasso di interesse che viene rinegoziato ogni due anni e i due anni scadono quest'anno quindi persone che avevano fatto il mutuo nel 2021 quando il mercato dell'immobiliare era sceso un po' i tassi erano a zero e pensavano di essersi comprati una casa con pochi spicci oggi si trovano a rinegoziare il loro debito con i tassi di interesse elevatissimi che impatteranno severamente le loro tasche come abbiamo visto in Italia questa cosa non avviene o meglio non avviene con così tanta larga scala perché sì anche fra voi i miei ascoltatori c'è gente che ha un mutuo a tasso variabile e adesso sta sputando sangue me lo dite lo immagino costa molto di più poi soprattutto se avete appena aperto il mutuo quindi la quota capitale è molto più grande di chi invece è verso la fine del mutuo quindi anche se gli alzano i tassi il capitale su cui sono calcolati i tassi non è elevatissimo ecco che un tasso variabile costa di più ma la maggior parte degli italiani ha un mutuo a tasso fisso e la prudenza dell'utilizzare un mutuo a tasso fisso in questo caso ha pagato perché chi ha il tasso fisso a prescindere da come girino i tassi pagherà sempre lo stesso chi ha avuto il buscio di culo di riuscire a farlo nel 2021-2020 quando i tassi erano a zero e c'è un mutuo rifinanziare le loro liquidità e voi gli pagate indietro per i soldi che vi hanno prestato l'uno per cento quindi diciamo che le banche non se la passano bene dal lato mutui già erogati su quelli già emessi fanno un botto di soldi e ne fanno anche da altre parti in Regno Unito invece con questa scusa tutte le banche inizieranno a guadagnare di più del botto perché rinegozieranno praticamente la maggior parte dei mutui e si parla di un aumento dei costi per interessi quindi di soldi che entrano nelle tasche delle banche di 14 miliardi di pound per quest'anno che è una cosa allucinante e questa è una variazione che avviene proprio perché nella struttura britannica i mutui vengono rinegoziati in tempi molto brevi e fra l'altro molti hanno spinto per avere un mutuo a due anni invece che a cinque avessero fatto un mutuo a cinque anni probabilmente avrebbero scavallato questo periodo di picco dei tassi perché da qua a tre anni probabilmente i tassi calano di nuovo e tornano non torneranno mai a zero mai però magari scenderanno fino al 2% che sono molto più gestibili rispetto al 5 e mezzo o al 5 attuale e questo è quanto avevo fatto una chiusura lunghissima quindi la registra in post produzione comunque grazie mille per avermi ascoltato fino a qui spero che questo contenuto vi sia piaciuto mettete like subscribe se non l'avete già fatto e vi piacciono contenuti di questo tipo commentate ditemi la vostra nei commenti mi fa strappiacere sentire cosa ne pensate o se avete altre domande che volete magari che io rispondo o che approfondisca in altri video fatelo qui sotto noi ci risentiamo al prossimo contenuto che sarà quando ci avrò il tempo di finire di registrare e montare il prossimo contenuto se volete ci sono i podcast che escono quasi ogni settimana ma comunque escono abbastanza frequentemente e il gruppo di telegram dove sono presente tutti i giorni quindi se avete domande da farmi e volete interagire con me mi trovate sul gruppo di telegram fino alla prossima vi vanno un grandissimo abbraccio e come sempre chiudo con un sentitissimo e dal cuore ciao da Jacopo